Gentili colleghi, oggi vi presentiamo un caso di situs ambigus che è tipico delle sindrome isomeriche. Per definire il situs è importante valutare la posizione e presentazione fetale per evitare di incappare negli errori. Il feto in questo caso è posto con l'estremo cefalico in basso, quindi sul suo fianco sinistro, quindi avremo la sinistra in basso e la destra in alto. Quindi vediamo in queste immagini che a livello addominale lo stomaco si prova in alto e quindi alla destra del feto, mentre il cuore, le quattro camere cardiache, l'apice cardiaco rivolto a sinistra e nel torace, quindi il cuore posto a sinistra. La biometria addominale del feto risulta regolare. Vediamo che posteriormente al davanti della colonna la orta addominale e la cava sono poste al centro e al davanti della colonna vertebrale e non lateralmente come di solito. Lo stomaco è posto a destra e la colicisti vediamo che è medializzata, quindi con l'ausilio del colore andiamo a visualizzare la colicisti e vediamo sempre utilizzando il color doppler che vi è una persistenza della vena ombelicale di destra. Vedete appunto con l'ausilio del colore la vascularizzazione intra-addominale e in particolare quella epatica, infatti nel somerismo destro vi è una reduplicazione dei due lobby destri del fegato e quindi abbiamo il fegato centrale simmetrico con entrambi i lobby di tipo destro. In scansione sagittale mediana vediamo con l'ausilio del colore i due colori diversi del flusso in aorta addominale e in vena cava inferiore che esclude l'assenza della cava inferiore che è presente invece nell'isomerismo di tipo sinistro. Nell'isomerismo destro vi è una duplicazione della morfologia degli organi di tipo destro e sono assenti quelli a morfologia sinistra, per cui i polmoni sono entrambi trilobati, il fegato è centrale e simmetrico con entrambi i lobby di tipo destro, la vena cava inferiore e la orta addominale sono poste dallo stesso lato della colonna vertebrale, il situs satriale è anch'esso isomerico con auricole entrambe di tipo destro e spesso vi sono anomalie cardiache associate. A volte è presente anche un'anomalia della milza, in particolare nell'isomerismo destro è presente asplenia. In passato queste sindrome infatti erano chiamate anche sindrome cardiospleniche, oggigiorno invece non è più utilizzata questa addizione perché le anomalie della milza non sono sempre presenti e quindi è più comune chiamarle sindrome eterotassiche o isomerismi. Negli isomerismi spesso coesistono anomalie cardiache associate, in particolare nell'isomerismo destro sono frequenti il canale atroventriconale completo che è presente nell'80% dei casi. Infatti nel nostro caso in esame abbiamo un canale atroventricolare completo sbilanciato, infatti nella scansione dei tre vasi che stiamo vedendo in questo momento vediamo una polmonare di regolare calibro ma una orta ascendente ipoplasica e di è una ipoplasia anche del ventricolo di sinistra. La polmonare ha una regolare forma, una regolare dimensione e vediamo a livello della quattro camere la presenza del difetto del setto interatriale per l'assenza del setto imprimum, della valvola atroventricolare unica e del difetto interventricolare che si vede bene in queste immagini. Quindi il canale atroventricolare completo è caratterizzato da una singola camera atreale per deficit del setto imprimum, un'unica valvola atroventricolare che di solito è a 5 lembi e un difetto del setto interventricolare. Il canale atroventricolare completo può essere di tipo bilanciato se le due camere ventricolari appaiono di normale volumetria mentre sbilanciato come in questo caso quando vi è un'ipoplasia di una delle due camere, in questo caso della sinistra. Vediamo in queste immagini il riempimento dei due ventricoli che evidenzia ancora di più la presenza di questo squilibrio, di questa predominanza del ventricolo destro rispetto a quello sinistro che è ipoplasico e vediamo appunto il riempimento, ci fa vedere che vi è una valvola atroventricolare unica e il difetto del setto interatriale. Abbiamo appunto anche nella scansione dei grossi vasi cardiaci la predominanza della polmonare sulla orta ascendente che è ipoplasica. Andando a campionare col doppio spruzzato il flusso di sangue a livello dell'aorta ascendente vediamo che vi è un aumento della velocità in aorta, una velocità di 155 centimetri al secondo, quindi aumentata a indicare ancora di più l'ipoplasia dell'aorta, mentre c'è una regolare velocità in polmonare con una velocità di 53 centimetri al secondo. Vediamo poi a livello atriale, le due auricoli atriali hanno tutte e due morfologia a destra con una forma che si dice piramidale. Non vi è appunto lo sbocco delle vene polmonari in atrio sinistro e si vede un vaso di confluenza alle spalle dell'atrio e quindi tra la quattro camere e la l'aorta discendente. Quindi questa è un'altra anomalia presente in questo fito. Inoltre vediamo che vi è la persistenza della vena cava superiore di sinistra che è presente nel 60% dei casi che drena in atrio di sinistra. Vediamo inoltre che vi è un lieve versamento pericardico, oltre che una ipertrofia delle pareti ventricolari. Altro segno ecografico che abbiamo riscontrato è quello di una lieve aumento del liquido amniotico. Nel 15% dei casi di isomerismo sono presenti anomalie extracardiace associate, come ad esempio la malrotazione intestinale che non è visualizzabile in epoca prenatale. In questo caso vive anche la presenza di una splenia, quindi di un'assenza della milza, che complica la prognosi per il rischio di anomalie poi del sistema immunitario successivi alla nascita. Inoltre possono essere associate anche a tresie intestinali e a tresie delle vie biliari. Per quanto in passato si ritenesse che le sindrome isomeriche fossero protettive nei confronti delle aneopleghie, oggi invece si ritiene che bisogna consigliare alla paziente l'esecuzione del RECGH perché è possibile individuare, grazie alle tecniche di genetica molecolare, la presenza di anomalie cromosobiche sub-microscopiche associate all'isomerismo. Inoltre bisogna consigliare alla paziente una consulenza cardiologica pediatrica e neonatologica per un corretto management dell'epoca postnatale. Il parto deve comunque avvenire in un centro di terzo livello per permettere il trasferimento del neonato in cardiologia, cardiochirurgia pediatrica per la diagnosi finale e un management neonatale corretto. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie a tutti.